Radio Radicale, siamo con l'On. Stefano Candiani della Lega per parlare con lui delle candidature per l'Europa, che è un tema che è sulla bocca di tutti qui a Montecitorio, perché parlando è uno dei principali temi di confronto politico. Ieri Salvini ha fatto sapere nel corso di un'intervista in televisione che lui non si candiderà, ha caldeggiato la candidatura del generale Vannacci. Allora, che partita ti sta giocando? Beh, innanzitutto sì, ovviamente ciascuno presenterà le candidature, le proposte, in funzione anche di una visione più ampia rispetto a un'intervista in televisione. Ma è evidente che in uno scenario nel quale negli anni ci siamo abituati a vedere tutti i leader che si candidano per tirare la lista e poi dopo si dimettono, rimanendo al Parlamento nazionale rispetto al Parlamento europeo. Ecco, questa è certamente una presa di posizione di chiarezza. Ormai tutti sanno che se domani mattina si candida il Presidente del Consiglio piuttosto che un Ministro, è molto facile, anzi è sicuro che non terrà quel seggio ma lo lascerà poi al primo delle non eletti. Il fatto che Matteo Salvini faccia una scelta, se questa sarà confermata, di chiarezza di questo tipo nei confronti degli elettori, ecco a mio avviso è sicuramente un elemento di novità rispetto a uno scenario, a un copione altrimenti ormai un po' consumato. Certo. È temuta la candidatura della Meloni? In che misura lo è? E soprattutto se ci fosse, potrebbe essere considerata un atto contro gli alleati di governo? No, penso che questa è una domanda che dovrebbe fare la Schlein piuttosto che quella di sinistra. Ovvio che noi faremo la nostra parte come Lega e come chiediamo ovviamente a Forza Italia, Fratelli Italia o gli altri partner in coalizioni farla. Lo scenario europeo è differente rispetto a quello nazionale. Noi ovviamente ci aspettiamo che sia replicata in sede europea quella maggioranza che governa anche a Roma, quindi un centro-destra unito senza sfrangiature piuttosto che con inserti variegati a sinistra, perché questo sarebbe deleterio. Ovvio che se alla sinistra magari facesse un po' più di attenzione ai temi, un po' meno alla forma, il tema non sarebbe se si candida la Meloni o Salvini, ma di che cosa si parla per le elezioni europee. Il problema è che non avendo alternative la mettono solo sulla questione personale. Come trova il fatto che si discuta così tanto di questo? Il fatto che la politica, soprattutto, ripeto, quella di opposizione fatica a parlare degli argomenti, perché se si parla di green, se si va a parlare anche di tematiche, pensi all'agricoltura, a quello che sta succedendo in Germania e in Francia. Cioè c'è una rivolta degli agricoltori in Germania, di cui anche i mezzi di informazione italiani parlano molto poco, che sta sostanzialmente andando a scuotere tutto l'impalcato della politica green europea, voluta dalla sinistra e voluta dai verdi, perché alla fine stanno mettendo in ginocchio addirittura l'agricoltura. Cioè è evidente che di questi temi non se ne parla. Ed è evidente che in Italia invece, anche perché ci sono poi delle situazioni che sono tipicamente italiane, pensiamo alla manifestazione ieri con i saluti romani e compagnia cantante, gli dai l'assist e poi il dibattito si sposta ancora sul torno ai fascisti e quelle cose lì. Insomma, anziché parlare dei programmi per la prossima candidatura alla Commissione europea, chi sarà il presidente e come sarà formata questa maggioranza. Senta, una delle cose che oggi troviamo sui giornali sulle cose che ha detto Salvini ieri è stata anche la valutazione che Salvini ha fatto nei confronti di Chiara Ferragni. Allora, noi abbiamo visto che c'è un personaggio così popolare, tanto popolare, amato e diciamo anche seguito nei suoi comportamenti, che ha creato indubbiamente una professione che è passata dagli altari alla polvere. Allora, Salvini ha criticato questo dare addosso. Allora, come ha trovato la scelta di Salvini? È stata una scelta garantista oppure anticonformista? No, beh, allora, premesso che conoscendolo è un po' nella sua impostazione, cioè non bisogna essere eccessivi nella lode come non bisogna essere eccessivi neanche nell'accusa. E' evidente che, peraltro, Chiara Ferragni in questo momento è cagion del suo male, pianga quindi se stessa, perché ricordo più che sue, ma anche sue, le intemerate del marito. Anche contro la Lega, poi. Sì, sì, anche contro la Lega, ma molto violenti, poi lanciando i follower. Insomma, alla fine, ecco, attenzione, perché questo tipo di gestione del consenso, nel momento in cui le cose non funzionano, si ritorce contro. Il fatto di non infierire, se vuole, anche una questione di stile, da cui dovrebbero imparare loro stessi. Certo. Si candidano, si candidano a lei, a Ferragni? A Ferragni? Almeno avrà buoni rapporti con Salvini. Questa è una domanda che non mi sarei mai aspettato, è quasi imbarazzante. No, nel senso che il consenso, il consenso, allora. La democrazia è fatta anche di queste cose, sicuramente ci sarà anche in questo momento qualcuno che le dà ancora ragione. Anzi, per la verità ne trovo più, ho sentito questa mattina una trasmissione in cui c'era un deputato, un euro deputata del PD che dava sostanzialmente scuse e giustificazione alla Ferragni. Quindi, vabbè, dai, parliamo di cose serie che interessano soprattutto alla vita della gente, alla quotidianità. Non è neanche la questione, a mio avviso, del rancore. Il rancore o l'odio sociale di cui, peraltro, la sinistra si nutre. Perché quando mancano gli argomenti si mette poi in contrapposizione chi non ha rispetto a chi ha. Badando di non fare la differenza tra chi magari ha guadagnato in maniera onesta rispetto a chi ha guadagnato in maniera non disonesta ma certamente veloce. C'è da meditare molto anche su questo modo di fare comunicazione, chiamiamola così, perché è tutto molto artificiale e i veri danneggiati in questa faccenda della Ferragni e del Panettone sono coloro che invece vivono onestamente di beneficenza. Perché è indubbio che questo non mette in crisi solo la credibilità della Ferragni. Ma il vero danno che fa la Ferragni è quello di gettare poi di scredito su tutto il mondo che vive dei nasciti, che vive delle donazioni, che vive della beneficenza che invece è cosa seria ma che rischia di venire screditato perché nasce poi una sfiducia da parte della gente. Ecco, è un po' quello che hanno fatto spesso e volentieri altri nei confronti della politica. Attenzione però perché demolire le fondamenta rispetto alla politica o rispetto alla beneficenza non ci fa più ricchi o non ci fa più generosi. Ecco, ci rende sicuramente più sterili. Quindi anche qui una riflessione che lascerei alla signora Ferragni. Bene, la ringrazio per la sua disponibilità. Grazie come sempre a Stefano Gandiani della Liga. Grazie.